Anticipazioni. Endless love. Emir decide di raccontare a Nian che sua madre in passato ha tentato il suicidio, e le spiega di non averglielo mai rivelato prima per volontà del padre. Zainab si trova tra due fuochi, Ozan e Salih, ma nessuno al momento sembra avere le attenzioni della ragazza. Kemal, una volta dimesso, riceve prima la visita di Nian, che costringerà ad andare via e poi quella di Asu. Emir e Galip non riescono a capire chi possa avere rubato le chiavette dalla cassaforte, essendo loro, gli unici, a conoscere la combinazione. Quando Galip racconta ad Emir da chi era partita l'idea della Nine festa, i sospetti dei due convergono su Kemal. Onder, preoccupato per Kemal, suggerisce a Nian di buttare via le chiavette, ma la giovane sembra avere in mente un altro piano, che Kemal affida a una disegnatrice di strada il compito di ricostruire l'identikit del suo accoltellatore. Onder incarica Zahir di rintracciare il criminale per risalire al mandante dell'aggressione. Salih, depresso e ubriaco, va a trovare Kemal. Non riesce ad accettare l'idea di aver perso Zainab. Tufan mette Emir a parte delle sue interessanti scoperte. Leila è la sorella di Vildan. Nian va a casa di Galip, per rimettere le chiavette nella cassaforte, ma Emir la segue e la coglie in flagrante. Dopo che Nian ha ricollocato le chiavette nella cassaforte di Galip, Kemal, preoccupato, si precipita da lei, nonostante la sua ferita sia ancora in cattive condizioni. La ragazza, G.L.I., spiega di aver compiuto quel gesto perché era l'unico modo per proteggerlo dai sospetti di Galip ed Emir. Il giorno dopo, Asu e Nian si incontrano davanti a casa di Kemal, dove sono andate per accertarsi che l'uomo stia bene. Kemal non è in casa e ignora la telefonata di Nian. Risponde invece a quella di Asu, che fingerà parte della conversazione. Kemal mette in trappola, con l'aiuto di Zehir, i due uomini che lo avevano assalito, e li porta al commissariato perché si costituiscano. Emir va a casa di Leila, dichiarando di essere a conoscenza che è la sorella di Vildan. E quindi la zia di Nian le chiede di rivelargli tutti i suoi segreti o la farà perseguitare dalla stampa. Leila lo caccia via bruscamente. Racconta l'accaduto a Kemal, che le consiglia di rivelare immediatamente tutta la verità a Nian. Ma prima che la ragazza raggiunga casa di Leila, Emir mette lei e Ozan a conoscenza del segreto. Nian si reca da Leila che le conferma di essere sua zia. Le racconta inoltre che avrebbe dovuto sposare Onder, ma il giorno del loro matrimonio aveva scoperto che la sorella, Vildan, era incinta di Nian e Ozan. La donna suggerisce poi a Nian di non commettere il suo stesso errore e di liberarsi dei suoi segreti confessandoli a Kemal. Nel frattempo, Emir incontra Zainep e manipolandola attraverso una fitta rete di bugie, porta la ragazza a dichiarargli di essere innamorata di lui. Kemal denuncia Emir, che viene prelevato dalla polizia e Vildan chiama Ghili avvocati di Emir e li manda alla centrale in sua difesa. Nian va a casa di Kemal e, in lacrime, Ghili racconta di aver scoperto il segreto di Leila e Ghili rivela il motivo che l'ha spinta ad accettare la proposta di matrimonio di Emir. Nian rivela a Kemal il ricatto di Emir. Se avesse accettato di sposarlo, Emir avrebbe protetto Ozan, impedendo di farlo arrestare per omicidio. Nian spiega la dinamica dei fatti avvenuti alla tenuta. Ozan ed Emir erano insieme a due donne e Ozan ha accidentalmente ucciso una delle due con una delle pistole di Emir. Vildan e Leila hanno un confronto su Onder, l'uomo che le ha fatte allontanare. Emir, dopo essere stato rilasciato, contatta e incontra Zainep, che poco dopo riceve una chiamata da Kemal, il quale le chiede di raggiungerlo. Nian si sfoga con i genitori ed esterna il dolore dovuto alla consapevolezza di aver sempre vissuto nella menzogna. Davanti all'ingresso della Cozquoglu Holding, i contadini protestano, perché non hanno più acqua per i loro campi. Qualcuno di notte ha attivato l'impianto della centrale termoelettrica, senza che ci fossero le dovute autorizzazioni, causando una deviazione del fiume. Kemal, come responsabile dell'impianto, viene accusato da decine di contadini di averli danneggiati. Nian ha scoperto che la sua famiglia le ha mentito riguardo il matrimonio dei suoi genitori e che le è stato nascosto di avere una zia che adesso anche Ozan vuole conoscere. Nian decide di presentargliela e insieme si recano a casa della zia Leila, che però è assediata dai giornalisti, i quali vogliono sapere come mai nessuno abbia mai saputo che Vildan avesse una sorella. Durante la giornata, al padre di Kemal viene recapitata una grossa multa da parte dell'Agenzia delle Entrate ed è disperato, ma Tarik, con grande stupore di suo padre, si offre di pagarla. Zainab, ossessionata dall'invadenza di Ozan, si dispera perché non riesce ad ottenere il permesso per uscire la sera ed incontrare Emir. Inaspettatamente, Asule offre una via d'uscita, la coprirà per rendere possibile l'incontro serale. Kemal dà un appuntamento nel bosco a Nian per comunicarle i suoi sospetti. Tutto ciò che fa Emir ha un secondo fine ed è convinto che ci sia il suo zampino nella vicenda che ha portato Ozan a rischiare un'accusa di omicidio. Nian, per paura di abbandonarsi a false speranze e per scoraggiare Kemal dal portare avanti quelle che ritiene essere inutili ricerche. Egli dà la chiavetta. Terminano così queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti e se sei curiosa di sapere cosa succederà, scrivi nei commenti voglio il continuo e presto uscirà un nuovo video. Alla prossima!